Salve a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, io sono Gamer3038 Oggi siamo in questo video in cui vi ringrazierò per i 200 iscritti ragazzi, sono veramente felice E vi ringrazio per il taguardo, è veramente bellissimo E poi volevo raccontare una cosa veloce, cioè un video per ringraziare e per annunciare Dato che non posso sbloccare ancora la modalità con la community, quindi ve lo dirò a voce Allora, praticamente il 18 novembre pubblicherò lo speciale 3 anni del canale E... Oh aspetta, allora Sì ragazzi, 3 anni, veramente ragazzi 3 anni Cioè ci sono canali del 2009, del 2007, però io l'ho aperto così per fare qualcosa E... 3 anni già sono passati ed è... non è poco, cioè è tanto E... Poi il... tipo il 2020 Tra aprile pubblicherò il primo video E... Dato che allora il canale l'ho aperto prima E poi i video l'ho pubblicati dopo perché il canale l'ho aperto magari per commentare su YouTube E... E vabbè Ora... cioè Ho annunciato questa cosa Spero che il video vi sia piaciuto anche se era un annuncio E... Bella ragazzi Ciao 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 Grazie a tutti